Cari amici, bentornati a Radio Puginio NER. Ora andiamo a vedere insieme l'intervento che c'è stato stasera, la copertina dei due comici Luca e Paolo a Di Martedì, che ogni martedì, appunto, scusate, ogni martedì sera, oltre a divertirci con la loro comicità, sono anche molto pungenti la loro satira. Va a sollevare dei temi molto importanti sull'attualità, su ciò che è successo durante la settimana, vanno a cogliere alcuni aspetti e dal loro punto di vista è molto interessante commentarli e analizzarli insieme. Per tutti coloro che si sono persi la puntata in diretta, coloro che andranno a rivedere i streaming sulla Sette e nei siti dedicati, per tutti coloro che invece vogliono anche seguire il nostro commento e poi possiamo continuare nei commenti del nostro podcast a dibattere sui temi sollevati questa sera da Luca e Paolo. Dunque, vediamo subito cosa ci hanno raccontato stasera con la loro satira, con la loro comicità. Allora, Paolo inizia ringraziando sarcasticamente Floris per essere puntuale, facendo notare ironicamente che non accade spesso. Subito dopo, identifica il responsabile dell'inconveniente con Parenzo, prendendo in giro la situazione, si unisce al commento esclamando o in modo scherzoso Luca, continuando a lamentarsi ironicamente di Parenzo che è presente naturalmente ospite in studio. Descrive in modo scansonato il ritorno degli avvenimenti politici ciclici, caratterizzati da stupidaggini e fesserie, con particolare riferimento alle elezioni e alle figure politiche che emergono durante questo periodo. Dunque, Luca e Paolo si soffermano sul personaggio di Luigi Rispoli, membro di Fratelli d'Italia, famoso per aver fatto quel post controverso, poi rimosso, dove fa un parallelo tra una figura preistorica, Neandertal e Lashlein. Luca prende in giro il ruolo di Rispoli come membro di una commissione consultiva sul teatro, evidenziando sarcasticamente l'influenza che questo personaggio politico può avere sulle questioni culturali. Luca continua scherzando sul modo in cui Rispoli ha gestito la situazione, dando la colpa a un collaboratore su questo post imbarazzante ed altre uscite. I comici ironizzano sul numero di follower del suo profilo, sottolineando la discrepanza tra il suo ruolo e l'attenzione sui social media. Infine, Luca e Paolo si soffermano sulle uscite provocatorie di Rispoli riguardanti il teatro, dimostrando con sarcasmo quanto sia assurdo il suo impatto sul settore teatrale italiano. Poi Paolo introduce ironicamente Bandecchi, come uno che si considera l'incarnazione di Napoleone, equiparandolo ai personaggi folli delle barzellette. Luca continua descrivendo il litigio tra Bandecchi e Ferranti come una situazione che ha trasformato una discussione politica seriosa sulla ternana calcio in un botta e risposta personale, simile a quello delle tribune politiche degli anni 70. E Paolo scherza sul fatto che la disputa abbia riguardato persino i capelli dei due contendenti, con Bandecchi che inizia il litigio con un grido di tagliati i capelli e Ferranti. Luca continua raccontando come Ferranti abbia risposto provocatoriamente sulla richiesta di Bandecchi sul suo aspetto. Il tono della discussione tra Bandecchi e Ferranti è descritto come degenerante, passando da un livello da prima media a uno da seconda elementare, evidenziando il modo infantile con cui la disputa si è svolta. Poi mostrano un video di Bandecchi che invita Ferranti a riflettere su una lettera aperta metaforica, chiedendogli di usare la propria coscienza. Luca e Paolo commentano sarcasticamente sulla bassa qualità del dibattito e sul modo in cui Bandecchi cerca di affrontare la questione. Nel finale Luca ironizza sulla rappresentazione di Bandecchi come un buco, un bucio di culo, nella discussione politica, mettendo in ridicolo il modo in cui il sindaco si è comportato. I comici concludono su Bandecchi ribadendo la stranezza della situazione politica italiana, confrontando la puerilità dei litigi a livello locale con i premi cinematografici internazionali. Dunque l'intervento di Luca e Paolo si concentra sull'assurdità della politica locale, sull'incoerenza dei personaggi coinvolti, utilizzando umorismo tagliente per mettere in luce le contraddizioni e i comportamenti infantili dei politici in questione. Poi successivamente Luca critica sarcasticamente l'approccio di Carlo Calenda e del suo staff alla comunicazione politica definendo il loro progetto BlaBlaCar come qualcosa che sembra giusto per essere oggetto di una denuncia penale. I comici prendono in giro l'efficacia dell'idea e la lentezza nel presentare contenuti significativi. Discutono della mancanza di sostanza nel video che fanno vedere nel video elettorale di Calenda, mentre sottolineano la ripetizione di parole vuote, la poca chiarezza nei messaggi politici. Successivamente viene mostrato un video in cui Calenda interagisce con una musicista di nome Isabella. I comici ironizzano sul lungo tempo impiegato per iniziare una conversazione significativa nel merito in questo video, sottolineando la mancanza di contenuti politici pertinenti oppure l'assenza di contenuti politici. Durante la conversazione nel video vengono fatte domande casuali e insignificanti come la provenienza della musicista che non sembrano contribuire al messaggio politico. Luca e Paolo ridicolizzano il fatto che il video si concentri su dettagli irrilevanti anziché affrontare argomenti importanti come le elezioni e le questioni politiche cruciali. E poi Luca e Paolo prendono di mira il tentativo di coinvolgere un fan entusiasta di Calenda tramite una videochiamata, sottolineando l'assurdità della situazione e la mancanza sempre di contenuti seri durante questa videochiamata. Dunque questo segmento del loro intervento si concentra sulla ridicolizzazione delle strategie di comunicazione politica di Carlo Calenda e del suo team, evidenziando la mancanza di sostanza nei contenuti e l'inefficacia nell'affrontare temi politici rilevanti durante la campagna elettorale. E poi Luca e Paolo prendono in giro Alessandro Cecchi Pavone un divulgatore scientifico che si candida per il Parlamento europeo. I comici giocano sul fatto che il suo nome sia spesso frainteso con alcuni che lo chiamano Pavone anziché Pavone. Luca spiega ironicamente che Cecchi Pavone ha una spiegazione tecnica sul suo nome attribuendo il fraintendimento alle telespettatrici anziane che si addormentano durante i suoi programmi e la conversazione continua con scherzi sulla coerenza del programma elettorale di Cecchi Pavone. I comici ridicolizzano il primo punto del programma di Cecchi Pavone che propone di rispolverare la sua trasmissione sulla macchina del tempo per creare un canale europeo. Luca e Paolo fanno satira sulla bizzarra priorità di Cecchi Pavone nel contesto politico europeo confrontandola con questioni più serie come i missili SCAD in Ucraina. E poi i comici parlano di un altro candidato che è Pietro Fiocchi che si presenta con un fucile e critica Greta Thunberg e un altro ridicolo comportamento anche ridicolo a loro dire è il manifesto di Fiocchi. Infine Luca e Paolo commentano un video di Alessandra Mussolini parlamentare europea in cui sembra esprimere concetti confusi sul voto e i diritti. Dunque concludono il proprio intervento ironicamente riassumendo il video e chiedendo ad Alessandra Mussolini cosa sia successo ma andrete a rivedere dopo queste piccole anticipazioni che vogliono soltanto mettervi curiosità andrete a vedere se non l'avete ancora fatto la puntata la copertina di Luca e Paolo perché naturalmente non è facile raccontare un intervento comico ma in sintesi abbiamo visto e esplorato insieme i temi più rilevanti di questa copertina di questa sera 7 maggio 2024. Ci riascoltiamo tra poco per commentare insieme altre interviste importante.